Buonasera, buonasera a tutti, apriamo questo video commento della giornata, un bel Lecce Juve che ho appena finito di vedere, veramente molto molto bello adesso andiamo a parlare un po' del Lecce, del Napoli, della Lazio, di tutto quello che è successo nella giornata calcistica però doveroso prima di tutto un abbraccio a Edo Bove che in questo momento sembrerebbe essere fortunatamente fuori pericolo ci siamo spaventati tutti nella giornata di oggi, a questo video non avrà il commento di Fernandina Inter perché come sapete tutti quelli che arrivano a questo video lo sanno purtroppo Bove ha avuto un malore che sembra dettato appunto da una crisi epilettica, insomma tutti gli esami poi medici non sono di mia competenza verranno poi approfonditi, io non ho voluto fare video sul tema, ne parlo perché ne devo parlare in questo video che è sulla giornata di campionato e quindi lo dico, mando un abbraccio di vicinanza e speriamo che il ragazzo si rimetta quanto prima è sempre spiacevole queste cose che purtroppo sono sempre più frequenti nel mondo del calcio e invito chi di dovere a fare degli approfondimenti al riguardo perché questo non accada più o meglio, non accada più difficile però accada sempre meno andiamo sul calcio allora la giornata è partita con Parma Lazio, tra l'altro ho preso tutti i pronostici che ho dato al controcalcio Parma Lazio che ha visto il Parma vincere contro la Lazio per 3-1 la Lazio che protesta per un gol annullato a Rovella a inizio di gara secondo me giustamente perché secondo me il fallo di Rovella c'è ho visto un Parma meritare la vittoria, portarla a casa meritatamente la Lazio era incerottata, aveva tanti assenti quindi ci può stare una frenata dopo tra l'altro la frenata con il Ludo Goretz in Europa League secondo me Lazio, Fiorentina andranno a calare quindi su quello sono fiducioso che poi il Milan si riprende i suoi posti in classifica mi aspettavo appunto, dicevo, una caduta della Lazio oggi a Parma avevo dato il Parma vincente nei pronostici a controcalcio Parma che tra l'altro aveva vinto solo con Milano e Venezia in campionato e batte la Lazio quindi si conferma un Parma che si esalta diciamo in determinate occasioni non si esalta invece in altre e niente, c'è poco da dire sulla Lazio secondo me è sconfitta meritata per quanto riguarda invece il Napoli anche lì avevo detto che il Napoli avrebbe vinto mi aspettavo una vittoria più larga e il Napoli, un po' come la Juventus però la Juventus arranca di più il Napoli sta riuscendo a vincere ma sembra sempre che gli manca qualcosa è vero, è primo, siamo ormai a dicembre è chiaro che lotterà per lo scudetto però gli manca sempre qualcosa cioè, io oggi mi sarei aspettato un Napoli che vincesse più più scioltezza che chiudesse prima la partita il Toro è sotto un tre cioè, il Toro io secondo me non capisco perché non ne sono erano Vanoli dice, ma non è colpa di Vanoli sei infortunato di Zapata il calendario è tutto quello che vuoi tu ma quando tu nelle ultime 11 partite vinci solamente col Como devi andare a casa devi avere la decenza di andare a casa certo, poi se i nomi per sostituirlo sono Mazzarri forse è meglio non toccare nulla però a me dispiace perché secondo me il Torino meriterebbe una proprietà diversa meriterebbe degli investimenti diversi meriterebbe di giocare per obiettivi diversi questo mi dispiace il Napoli il Napoli lotterà per lo scudetto però non lo so a me non se vi devo dire il Napoli mi convince per esempio il Napoli di Spalletti era una squadra che porca puttana non poteva non convincerti era una squadra che dominava le partite lungo e largo sto Napoli si vince ma sapete che mi ricorda? la Juventus dell'anno scorso la Juve di Allegri che fino a gennaio-febbraio era il lotto a scudetto che le partite le vinceva ma dicevi sempre ma vince ma ecco mi ricorda un po' quel quel modus operandi lì poi Fiorentina-Inter ne abbiamo parlato è successo l'episodio di Bove quindi la partita si ferma su quel gol annullato all'Autaro Martinez che vi devo dire in tutto non sono convinto che la palla fosse uscita ma sapete bene che il VAR non interviene in questi casi quindi di conseguenza quando la partita si rifarà dal minuto in cui è stata interrotta si riprenderà con credo la rimessa laterale o il calcio d'inizio mentre è stata molto bella Lecce-Juventus soprattutto nella ripresa un gran Lecce un gran Lecce devo dire complimenti a Gianpaolo che in due settimane ha fatto un grande lavoro su questa squadra l'ha rivitalizzata quando vanno fatti i complimenti vanno fatti i complimenti e finalmente ho visto quello che succede al Milan una squadra a soffrire in casa delle piccole perché sai quando a Lecce ci giochi sempre alle 3 fai determinate partite quando ogni tanto te la mettono alle 20 e 45 probabilmente c'è la speranza di vedere quello che succede al Milan che le piccole le affronta tutte alle 20 e 45 con un clima diverso la Juventus io l'ho detto quando dicono no alla grande Juve di Tiago Motta sto grande Tiago Motta non lo sto vedendo sono sincero cioè per me Tiago Motta doveva fare molto di più col mercato che gli hanno fatto anche oggi aveva in campo sì ti manca la punta ma aveva in campo giocatori molto importanti e giocavi con il Lecce avevi giocatori del calibro di Turam del calibro di Coppainers con Seisau tutta la gente arrivata dal calciomercato estivo quindi per me Tiago Motta inizia a essere un problema va messo sul banco degli imputati perché se se questi risultati li avessi ottenuti Allegri io credo che la stampa non l'avrebbe perdonato e quindi perché Tiago Motta deve godere ancora di alibi è arrivato il momento che si assuma la sua responsabilità stasera il Lecce ha dominato nel secondo tempo cioè la Juventus è andata in vantaggio per un gol totalmente casuale ma il Lecce avrebbe meritato secondo me proprio di vincerla la partita Lecce che attenzione attenzione quando giocheremo con Lecce perché questi hanno dei cross fantastici fanno dei cross fantastici e sapete che noi andiamo in difficoltà quando crossano da quinto a quinto sapete tutti i gol che abbiamo preso ecco il Lecce è una squadra che se gioca come ha giocato stasera con la Juventus ci metterà in enorme difficoltà ve lo dico già Dorgu giocatore meraviglioso ecco io mi chiedo perché il Milan dorme e non vada subito a chiudere questo acquisto perché Dorgu è un giocatore meraviglioso fidatevi stasera l'ho guardato per tutta la partita è un giocatore fantastico è un giocatore che assolutamente merita con tutto il rispetto una squadra che lotti per altri obiettivi e secondo me il Milan ci deve fare un importante pensierino su di lui un importante pensierino poi Rebic cuore rosso nero lui la Juventus è solita castigarla è la bestia nera della Juventus e quando è entrato un po' ce l'ho avuto e quelle vibes ha sbagliato qualcosina ha tentato diverse giocate e ha deciso la partita poi nel finale perché se lo sbagli è lui che col tacco lancia a Christovic che poi va a riprendersi la palla al centro non vorrei ricordare male comunque trova il gol dell'1-1 non ho capito la non-isultanza di Rebic sono sincero perché alla fine hai segnato la squadra con cui hai feeling nel realizzare il gol non capisco perché non esultare però avrà avuto i suoi motivi comunque ante Rebic 1-1-1 cuore rossonero ci fa recuperare due punti sulla Juventus e adesso la classifica dice che il Milan se dovesse vincere poi la partita che ha in meno sarebbe praticamente ecco la sto guardando proprio adesso sarebbe a meno uno dalla Juventus Juventus che si allontana dalla vetta adesso sono sei punti dal Napoli e io continuo a dire il Milan con la Juventus tranquillamente qualora non dovesse rientrare mai in lotta a scudetto come in questo momento penso il Milan si può giocare ampiamente il suo posto in Champions con la Juventus perché a me sta Juventus sinceramente non mi piace Tiago Motta non mi convince godrà pure di ottima stampa ma i risultati li posso giudicare anche senza leggere quello che dicono i giornalisti fatemi sapere la vostra nei commenti seguitemi su Instagram Twitter e TikTok sempre Forza Milan venite nel gruppo Telegram lo trovate in descrizione mi raccomando iscrivetevi al canale siamo un passo di 13.000 iscrivetevi al canale